Noi riprendiamo, siamo alla linea 114. Questa seconda parte della nostra conversazione è leggermente più breve. Entriamo dentro ai primi 11 capitoli. Lo schema di questi primi 11 capitoli è abbastanza semplice. Prima c'è un racconto di creazione della fonte sacerdotale. Quindi questo testo appartiene al VI secolo. Siamo in Babilonia e quindi in una situazione per gli ebrei molto dolorosa, senza tempio, senza sacerdozio. Non c'è la lettura sistematica della Torah e via discorrendo. Sono schiavi, insomma. Mentre invece il racconto successivo, che è un racconto molto ampio, strutturato molto bene, e comprende la nascita del mondo, dell'umanità, il peccato, la prima umanità, appartiene alla fonte javista. E qui sembra non ci siano gli elementi persiani. Quindi potremmo ben ipotizzare questo testo come un testo del X secolo a.C. di epoca salomonica. Finito il racconto piavista, troviamo una genealogia di cui abbiamo fatto un saggio con Matusalemme, Lame, Che Noè, e vedremo l'importanza di queste genealogie. Poi c'è il racconto del diluvio, che è un racconto incastrato. C'è un antico racconto del diluvio, su cui è stato proprio incastrato dentro il racconto della fonte sacerdotale. Ed è venuto fuori un testo apparentemente ricco, di fatto, pieno di contraddizioni. Proprio perché si tratta di due racconti non curati, cioè il redattore non ha voluto toccare il testo, l'ha voluto semplicemente amalgamare con quello precedente. Ecco perché noi troveremo della difficoltà a leggere questo brano. La stessa cosa succede al capitolo decimo con la seconda genealogia dei patriarchi post-diluviani. È però una genealogia simpatica, a differenza della antipaticità della genealogia del capitolo quinto. Al capitolo 11, all'inizio, troviamo il racconto della torre di Babele e qui il problema è dubbio. Nel senso che, avendo degli elementi persiani, non sappiamo dove collocarlo. Questo potrebbe essere un javista secondo, potrebbe essere post-esillico. Ma giurarci sopra è difficile. Altro, invece, racconto misto è la terza genealogia che chiude praticamente questa pre-istoria della salvezza. Perché con il capitolo 12 inizia il ciclo di Abramo, compare la figura di Abramo, questa vocazione che Dio dà al patriarca esce dalla tua terra, entriamo dunque nella storia. La pre-istoria della salvezza, allora, ha come racconto vero e proprio la creazione, l'umanità nascente, il diluvio e la torre di Babele. Tutti i pezzi che congiungono questi racconti sono fatti da genealogie, che era un modo antico di fare storie. Vediamo se riesco io ad essere chiaro. Se io dicessi, guardate che per educare un bambino bisogna ricordarsi di Cenerentola, Biancaneve e di Pinocchio. Io ho fatto una piccola genealogia. Ho nominato Cenerentola, Biancaneve e Pinocchio. Però capite che, parlando con voi, io so che voi conoscete cosa c'è dietro a Cenerentola. So che voi sapete cosa c'è dietro alla parola Biancaneve e so cosa c'è dietro alla parola Pinocchio. Non ve lo dico. È una specie di segreto che c'è tra di noi. È un codice, è un riassunto. Per dirvi, non so, ipotesi, io non sono un pedagogista, ma che nella vita bisogna sempre avere speranza che non si può essere così appiattiti sul reale senza avere dei sogni come Cenerentola. Che nella vita la collaborazione la si può avere anche dai piccoli. Non sempre le persone importanti sono quelle che ci aiutano. Alle volte sono anche le persone che noi riteniamo non importanti, che diventano per noi fonte di costruzione, di crescita. Pinocchio è la capacità di instaurare rapporti autentici, non falsi, non sognatori, non illusivi. Se io dico che occorrono questi tre personaggi, e lo dico tranquillamente, lo dico perché so che, parallelo a questo mio discorso, esiste una tradizione orale che trasmette questi tre racconti. Le genealogie erano accompagnate da questa tradizione orale. Ecco perché le genealogie sono così asciutte, sono così schematiche. Se voi volete fare una piccola esperienza, prendete il primo libro delle cronache, capitolo primo, versetto uno. No, non c'è, non c'è Oscar. Quando andate a casa, prendete questo testo, primo libro delle cronache, capitolo primo, versetto uno. E lì voi trovate, in fila, una serie di nomi e basta. E' interessante. Abramo. Adesso non lo so quale... Eugenio, ci leggere per cortesia. Abramo. Set. El. Enal. Malalel. Voi dite, grazie, che senso hanno questi nomi? Abramo. Scusa, Adamo. Set. Enos. Se voi andate al libro della Genesi, vedete che il ciclo di Adamo è abbastanza ampio. E' fatto di tre capitoli. E su Adamo si dicono diverse cose. Perché Set? Troverete anche Set, che è il terzo figlio della coppia primordiale. E c'è un particolare. Con la nascita di Set, l'umanità ha cominciato a pregare Yahweh. E' scritto. Proprio nel capitolo quarto, dopo la morte di Abele, c'è questo piccolo particolare. Chi conosce e legge quei nomi, ha presente cosa sta dietro a quei nomi. che vuol dire che la genealogia è una forma riassuntiva orientale di fare storie. però è una storia che deve essere accompagnata da una tradizione orale. Se si perde la tradizione orale, ci resta lo scheletro senza i muscoli. quello che è successo per diverse di queste genealogie, ma anche per la genealogia del capitolo primo del Vangelo di Matteo e del capitolo terzo del Vangelo di Luca. c'è una genealogia di cui sappiamo una serie di nomi, su alcuni sappiamo qualcosa, su altri non sappiamo niente. persa la tradizione orale della Chiesa nascente, abbiamo perso il valore di questi testi. Potremmo recuperare? Sì, basta aver pazienza, perché il deserto di Giuda, il deserto della Giordania, il deserto egiziano, eruttano continuamente questi papiri, queste memorie dell'antichità, che di anno in anno arricchiscono le nostre conoscenze. Bene. Questi primi undici capitoli che noi leggeremo, stranamente non vengono più ripresi nella loro totalità teologica da nessun brano dell'Antico Testamento. È come se l'Antico Testamento quasi ignorasse questo ciclo letterario dei primi undici capitoli. Prende qualche cosa, qualche tema, ma come ciclo omogeneo lo snobba. È anche il Nuovo Testamento. Stessa cosa. Prende qualche tema, ma come ciclo non lo conosce, non gli interessa. La Bibbia cosa prende di questi primi undici capitoli? Parlo dell'Antico Testamento in questo caso. Prende il tema della creazione, per esempio. Ci sono alcuni brani nel Libro della Sapienza che adoperano il tema della creazione per dimostrare l'esistenza di Dio. Il Libro della Sapienza dice, applicando il criterio di causa e conseguenza, se la creazione è una conseguenza, ci sarà una causa, che è un creatore. Infatti dice, come mai questa gente che scruta il cielo, che sa parlare dei vari segni zodiacali, contemplando le bellezze dell'opera, come mai non è capace a risalire all'artefice? Il Libro della Sapienza si mette a questa domanda, che sarà poi la posizione ripresa da Paolo nella lettera ai Romani, dove dice, dalla creazione si può risalire al creatore. E quindi, adoperano il tema della creazione con un valore filosofico dimostrativo dell'esistenza di Dio. Oppure, questo tema viene ripreso sotto il profilo, chiamiamolo, esortativo. E io vi ho riportato questo brano, perché è meno filosofico e più simpatico. Anche se il quadro presentato poi è un po' doloroso, perché siamo in piena persecuzione, Antioco, Quarto e Epifane sta praticamente massacrando il popolo ebraico, e in uno di questi momenti di persecuzione c'è l'episodio di questa madre che ha sette figli e vengono uccisi tutti e sette da Antioco, poi viene uccisa anche lei. Siamo ormai verso la fine del martirio di questo gruppo familiare e si dice che la madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire sette figli in un sol giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore, esortava ciascuno di essi nella lingua paterna, quindi in ebraico, di fronte ad Antioco che invece parlava greco e di ebraico non capiva niente e perciò faceva trucco questa donna, esortava ciascuno di essi nella lingua paterna piena di nobili sentimenti e sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile, sentite che questo è un prosodare di tipo greco, non è ebraico questo qui, infatti l'originale del secondo libro di Maccabee è in greco, diceva loro non so come siate apparsi nel mio seno, non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi, senza dubbio il creatore del mondo che ha plasmato alla origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita abbiamo la confessione di fede sulla vita oltre la morte come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi quindi l'onipotenza di Dio qui viene predicata come capace di far vivere la persona oltre la morte Antioco credendosi disprezzato e sospettando che quella voce fosse di scherno esortava il più giovane che era ancora vivo e non solo a parole ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato gli usi paterni e che l'avrebbe fatto suo amico gli avrebbe affidato cariche ma poiché il giovinetto non badava affatto a queste parole il re chiamata la madre la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo dopo che il re la ebbe esortata a lungo essa accettò di persuadere il figlio chinatasi verso di lui beffandosi del crudele tiranno disse nella lingua paterna figlio abbi pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi e che ti ho allattato per tre anni è interessante per chi fa la storia della puericultura qui ha gli usi ebrei allattare un bambino per tre anni beh è una grossa imprese ti ho allevato ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento ti scongiuro figlio contempla il cielo e la terra osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti tale è anche l'origine del genere umano non temere questo carnefice ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli accetta la morte perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia concetto di creazione qui viene espresso in forma greca perché nel mondo ebraico non esiste il concetto di preesistente o non preesistente o c'è o non c'è quando tu nomi in una cosa c'è ed ecco l'imbarazzo del racconto che noi troveremo nel prossimo mese in principio Dio creò il cielo e la terra la terra era senza forma senza forma e vuota ora voi pensate al mio naso non è un granché ma ha una forma la terra era senza forma avete presente un pallone un palloncino di quelli che salgono c'è questo velo di gomma che dà forma al palloncino può essere tondo può essere che so io un coniglietto può essere quello che volete il testo dice in principio Dio creò il cielo e la terra la terra dovrebbe dire il testo ebraico non esisteva ma quando una cosa viene nominata vuol dire che esiste l'ebreo non ha il concetto di non essere come nel mondo greco il mondo greco è capace di lavorare sul non essere a livello filosofico l'ebreo dice no se io l'ho nominata vuol dire che in qualche maniera c'è e allora per dire che non c'era devono trovare una formula strana la terra non aveva nessuna forma ed era svuotata dentro la terra era in forme e vuota cioè la terra non c'era noi avremmo risolto il problema così loro non potevano perché non avendo metafisica non erano arrivati alla concezione che esiste il non essere è una contraddizione logica ma il mondo greco era riuscito a superare questa realtà del pensiero al mondo ebraico no qui abbiamo dunque la concezione greca della creazione e l'espressione della testimonianza di fede molto importante dove l'ebreo in qualche maniera ripudia la cultura ebraica ma non la fede ebraica e riesprime la fede in un'altra cultura cosa che noi cristiani abbiamo cominciato a fare dal medioevo in qua perché dal medioevo in qua pian piano abbiamo separato la fede dalla cultura per cui noi possiamo esprimere la nostra fede in diverse culture l'islam questa divisione non l'ha ancora fatta e quindi identifica la propria fede con la propria cultura per cui uno non può essere musulmano se non sposa nella cultura araba e uno che è arabo non può non essere musulmano capite a che punto ci troviamo è difficile il dialogo fra noi occidentali dove siamo capaci di avere una cultura occidentale e una pluralità di fedi con un musulmano che essendo musulmano ha solo in testa la cultura araba con tutte le sue varianti si capisce questa è una difficoltà che noi dovremo pian piano imparare a capire perché la dovremo affrontare se vogliamo dialogare e accogliere nelle nostre terre queste persone un altro esempio della Bibbia che prende dai primi undici capitoli è il concetto di peccato noi sappiamo che per esempio l'elaborazione più grande che viene fatta su questo tema è fatta da Paolo nella lettera ai Romani dal capitolo praticamente tre fino al capitolo otto della lettera ai Romani questi cinque capitoli che sono forse la parte più possente del pensiero cristiano delle origini Paolo pone Adamo e il nuovo Adamo in parallelo e capisce stranamente la gravità del peccato non partendo dall'antico Adamo Paolo dice ciò che è successo è disastroso perché se per redimere ciò che è successo è stato necessario che il nuovo Adamo vivesse l'esperienza che ha vissuto che disastro è stato quel peccato dell'antico Adamo ma è ponendo in parallelo questi due Adami che Paolo riesce a fare questo discorso mentre invece in qualche cosa di meno di meno elaborato ma di sapido di interessante lo troviamo nel libro della Sapienza siamo alla linea 153 ed è molto simpatico questo sì Dio ha creato l'uomo per l'immortalità altro concetto greco attraverso il quale si esprime la vita oltre la morte sì Dio ha creato l'uomo per l'immortalità lo fece a immagine della propria natura noi troveremo la prossima volta la dicitura di facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza questa immagine e somiglianza che è tipico concetto orientale viene espresso nella cultura greca con il concetto di physis natura che è un concetto filosofico ora il ragionamento che fa l'autore della Sapienza è questo ma se noi apparteniamo alla natura di Dio Dio è immortale cavolo anche noi siamo immortali e allora viene fuori l'espressione sì Dio ha creato l'uomo per l'immortalità noi metteremo fra parentesi perché lo fece a immagine della propria natura invece qui sotto il profilo letterario l'autore adopera ancora il cosiddetto concetto di paratassi e non di ipotassi cioè non di subordinanza e perciò avete queste affermazioni che vengono messe tutte allo stesso livello il secondo versetto parla di questo peccato originale se notate a differenza di quello che dice il Siracide che qui forse è un po' cattivello che dice per colpa della donna è entrata alla morte nel mondo il libro della sapienza molto più signorilmente dice ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono non gli altri interessante questa distinzione non è la donna colpevole ma la radice di questa di questa realtà così brutta che è la morte la si trova nel diavolo e chi fa esperienza non tutti tutti moriamo ma non tutti facciamo esperienza di morte quindi il vivere una cosa non significa appartenere a quella cosa tema del peccato fatto in questa maniera è fatto nella parte più tardiva dell'Antico Testamento siamo nel terzo secondo del primo secolo avanti Cristo nei secoli precedenti neanche non si tocca questo problema perché il peccato non era legato alle origini ma era legato alla trasgressione dell'alleanza quindi è un rapporto giuridico con Dio poi per esempio viene fuori il tema di Adamo viene fuori parecchie volte ovviamente qui nel libro di Osea è interessante io ho preso proprio questi primi due versetti per fare la conversazione di ebraico stamattina ed è la prima volta nella storia del popolo ebraico che si dice che Adamo e Dio avevano fatto un'alleanza e Adamo l'ha violata è passato oltre con indifferenza ma essi parla degli ebrei come Adamo hanno violato l'alleanza ecco dove mi hanno tradito Galat è una città di malfattori macchiate di sangue come banditi inaguato una ciurma di sacerdoti assale sulla strada di Sichen e commette sceleratezze orribili cose ho visto in Betel là si è prostituito Efraim e si è contaminato Israele anche a te Giuda io riservo una mietitura quando ristabilirò il mio popolo questi sono grandi santuari dell'epoca della sedentarizzazione santuari dove invece di fare o di promuovere l'incontro con Dio veniva promosso quello che noi chiamiamo il mercato simoniaco ma questa è una dicitura cristiana cioè si mercanteggiava con Dio ma soprattutto si mercanteggiava tra gli uomini i preti approfittando di questo bisogno del sacro e insito in tutte le persone manipolavano la celebrazione ovviamente per propri scopi di lucro c'è un altro ricorso ad Adamo in questo caso nel Siracide ma per parlare di un Adamo che è un po' alla sommità dell'umanità dice Sam che è il figlio buono di Noè è quello che girandosi di spalle quando Noè era proprio disteso come un maiale ubriaco fradicio e nudo Sam per rispetto del papà prende il mantello e senza guardarlo lo copre e Sam diventa il capostipite dei Semiti di cui il popolo ebraico è un rappresentante invece Seth sarebbe il figlio di Adamo ed Eva il terzo durante la vita del quale si comincia a pregare Yahweh e allora il Siracide dice Sam e Seth sta andando indietro nel tempo Sam figlio di Noè indietro nel tempo risale alle origini Seth figlio di Adamo ed Eva Sam e Seth furono glorificati fra gli uomini ma superiori a ogni creatura vivente e Adamo qui noi abbiamo la personalizzazione di questa figura biblica mentre invece noi scopriremo che dietro la parola Adamo c'è sempre il gruppo non l'individuo oppure e arriviamo adesso alla conclusione poi la parola passa a voi primi undici capitoli vengono ripresi da diversi sapienti in maniera particolare dal Siracide per presentare queste figure non come interlocutori di Dio o facitori di storia tipica mentalità ebraica ma come figure esemplari da imitare tipica mentalità greca nel mondo greco gli eroi sono le persone che vengono presentate alle giovani generazioni perché le giovani generazioni imparino le virtù la virtù di quel tizio di quell'eroe di quell'altro eroe la rete la virtù è una cosa importante che va trasmessa esemplarmente cioè si prende la persona che è esempio di eroismo e si dice al giovane ecco questo è il vero uomo il kalos il migliore per quanto riguarda questo aspetto nel mondo ebraico questa mentalità non esiste esiste invece in questi scritti tardivi quando il mondo ebraico si è confrontato con la civiltà greca e il siraci descrive Enoch piacque al signore e fu rapito esempio istruttivo per tutte le generazioni Noè fu trovato perfetto e giusto al tempo dell'ira fu riconciliazione per suo mezzo un resto sopravvisse sulla terra quando avvene il diluvio alleanze eterne furono stabilite con lui perché non fosse distrutto ogni vivente con il diluvio successivo che Dio promette di non mandare mai più Che cosa abbiamo fatto questa mattina? Siamo partiti da una posizione chiamiamola ingenua circa il Pentateuco abbiamo scoperto che il Pentateuco invece non è una composizione ingenua ma è fatta in più tempi da più persone con più interessi teologici noi riusciamo a riscoprire tutto l'itinerario o meglio gran parte di questo itinerario di formazione da una lettura attenta del testo e dalle sue irregolarità e riusciamo anche in parte a collocare con una discreta precisione la nascita di questi testi perché una volta collocati nella storia ci diventerà più facile poi capirli e interpretarli e ciò che ci meraviglia è che il ciclo letterario della preistoria della salvezza non viene mai più ripreso in tutta la Bibbia in tutta la Bibbia noi troviamo qualche tematica che viene messa in evidenza ma il cosiddetto ciclo originale non più come mai perché nessuno di noi oggi si sognerebbe di ragionare secondo i criteri per esempio di Anassimandro e chi che l'è o di Anassimene e chi che l'è e nessuno di noi oggi penserebbe di reggere una discussione filosofica secondo il criterio dei sofisti perché quelli si come il bambino si fa la pipì addosso quelli si parlavano addosso dimostrando in cinque minuti tutto è il contrario di tutto sono sistemi di pensiero che noi non possiamo più accogliere data la loro ingenuità o la loro rozzezza oggi per esempio o si accetta un indirizzo di tipo metafisico o si accetta un indirizzo di tipo linguistico sono le due grandi linee del pensiero attuale o si fonda tutto sul linguaggio o si fonda tutto sul recupero perché in un'epoca recente che sta alle nostre spalle la metafisica era stata completamente bandita dal pensiero adesso c'è un certo recupero mi dicono gli specialisti perché io non sono filosofo avere altri sistemi di pensiero oggi significa non avere più la capacità né di capire la situazione di oggi né di esprimerla quindi non è più possibile rifarsi a questi pensatori che io vi ho citato più o meno succede la stessa cosa nell'ambito sia dell'esperienza ebraica sia dell'esperienza neotestamentaria i problemi sono troppo grandi e ciò che c'è in questi primi undici capitoli non risponde più alla necessità di dare spiegazioni di realtà che erano venute a crearsi vi faccio un esempio voi vi rendete conto che fino al secondo secolo il mondo biblico non conosce la sopravvivenza sarà a contatto con il mondo greco che Israele comincerà a riflettere sulla sopravvivenza e dato il concetto antropologico che aveva Israele e cioè che la persona è un'unità assoluta non è divisa in corpo e anima se c'è la sopravvivenza quella sopravvivenza si chiama risurrezione se voi leggete i primi undici capitoli della Genesi queste cose non esistono non sono neanche sospettate non c'è niente il rapporto fede e cultura di cui parlavamo per l'ebreo diventa problema quando quando ha un impatto con un mondo culturale che non è più semitico perché fino ad Alessandro Magno gli ebrei hanno incontrato gli egiziani che sono semiti hanno incontrato gli assiri che sono semiti hanno incontrato i babilonesi che sono semiti e hanno incontrato i persiani che sono diventati semiti non hanno mai incontrato gli ettiti per esempio se no per ragioni commerciali che pur adoperando alcune forme erano però già popoli occidentali non semiti Roma l'hanno incontrata solo alla fine del secondo secolo Sparta l'hanno incontrata solo alla fine del secondo secolo avanti Cristo ovviamente quando dunque gli ebrei sono costretti ad aprire gli occhi a vedere che c'è un altro modo di pensare devono rifare tutta una serie di schemi culturali per poter dire se stessi questo è un problema che compare tardi e nei primi undici capitoli queste cose non esistono ho un'opinione assai diversa prima di tutto perché ciò che si vede è la violazione ma a partire da Adamo è la violazione quindi diciamo a partire dai gruppi iniziali la violazione dell'alleanza o comunque la transgressione quindi è la storia che comincia là prima non possiamo parlare di storia possiamo parlare l'Eden esiste ma esiste come proiezione cioè come qualche cosa che doveva essere e quindi possiamo pensare che questo è un desiderio anche dell'uomo di tornare a una situazione Edenica e quindi portarlo dopo la vita anziché portarlo prima che non serve a niente non serve a niente pensare all'Eden prima serve invece ricostituire l'Eden tramite la transgressione e il ritrovamento di Dio però questo concetto è giustissimo ma è all'interno di una cultura per esempio nel mondo greco-romano questo concetto non è esprimibile così perché nel mondo greco-romano ciò che noi chiamiamo morale non era legato alla fede greci e romani hanno paura di trasgredire il rapporto rituale con gli dèi ma per quanto riguarda le piccole nefandezze quotidiane non sono gli dèi a gestire la morale ma è quello che noi chiamiamo la scuola filosofica per cui io potevo avere riportando la situazione all'epoca del Siracide della Sapienza oppure del Cristianesimo nascente io potevo avere un greco che andava al Tempio di Atena a fare il sacrificio a fare l'offerta e un altro greco però il greco ha l'Atenese ha aveva per esempio come pensiero etico il pensiero ipotesi picureo il fedele greco B l'Atenese B pagano come il primo aveva come punto di riferimento etico il cosiddetto pensiero cinico tutti i due dovevano adempire in maniera rituale perfetta l'offerta se no avrebbero anche lì fatto un peccato contro gli dèi ma era un peccato rituale allora non bisogna disobbedire all'oracolo e Ifigenia deve essere uccisa ma questo è un peccato rituale se Agamemnon non avesse ucciso Ifigenia avrebbe fatto un peccato rituale che è un peccato contro gli dèi ma se avesse imbrogliato come poi lo ha fatto Achille gli dèi non c'entrano mica eppure noi diciamo no tutti i due appartengono a queste azioni al campo morale il greco non aveva questa distinzione siamo in ambito semitico dove c'è il campo morale legato alla fede e non a un pensiero filosofico autonomo e questa è una struttura culturale che fa cambiare tante cose perché nel momento in cui io imbroglio uno io sto facendo un insulto a Dio perché sto rompendo l'alleanza con lui nel momento io da pagano che imbroglio uno dico fesso tu io con gli dèi non ho niente di aperto perché tra l'altro ho Mercurio che fa il mio protettore protettore infatti è Mercurio infatti era il protettore dei ladri e non so perché dei commercianti perciò quello che dici tu è perfetto all'interno della mentalità culturale ebraica o semitica ma la tragedia dell'ebraismo la grandezza dell'ebraismo è stata proprio lì quando con l'impatto con un'altra cultura ha saputo ridire se stesso in una cultura diversa dalla propria ripeto guardate che a noi sono occorsi circa 1400 anni per fare questo San Tommaso d'Aquino ha cominciato nel 1200 pescando una struttura di pensiero pagano greca Aristotele e ha riespresso la fede cristiana non più in parametri semitici ma in parametri pagano greci fatto sta che le opere di Tommaso all'inizio erano state viste con sospetto e addirittura sconsigliate da leggersi il primo grande sforzo di transculturazione è stato quello lì un altro grande sforzo di transculturazione è stato ciò che ha fatto il nostro conterraneo il cardinale Costantini in Cina naturalmente il Vaticano che arriva sempre dopo lo ha bocciato solennemente e solo adesso stanno riprendendo gli scritti di Costantini per ripensare a una teologia cinese a una liturgia cinese a una morale cinese perché loro hanno parametri completamente diversi dai nostri noi in occidente nonostante Ops che dice Oc post Oc non Oc propter Oc cioè Ops distrugge il principio di causa e conseguenza ponendo la conseguenzialità temporale e basta parte Ops che ripeto non ha fatto testo perché noi diciamo se io ti do un pugno tu mi denunci e io vado in galera quindi io sono stato la causa di questo male che mi arriva addosso noi in occidente continuiamo a ragionare secondo il principio di causa e conseguenza con il cinese non ce la fate non ce la fate perché il mondo cinese ragiona per paralleli più o meno come il mondo semita micro e macro se io faccio il male ciò che noi occidentali chiamiamo il male l'orientale dice dimostrami che lo è e tu gli fai tutto un discorso di causa e conseguenza lui non lo capisce perché dice se fosse male ciò che io faccio non lo dovrei trovare nel macrocosmo ma se io vedo che il leone mangia che so io il cerbiatto perché io che sono più forte non posso schiavizzare te ciò che avviene nel macrocosmo può avvenire nel micro tu ragiona con uno così poi noi andiamo a dirgli ma noi se leguiamo le cosiddette grandi leggi di natura perché ciò che non è scritto nella Bibbia è scritto nella Bibbia creata perché la creazione è una Bibbia allora noi ci appelliamo alle grandi leggi di natura l'omosessualità non è fertile allora la coppia che per natura sua è fertile e Dio li benedisse siate fecondi e moltiplicati vi si dice beh non è una vera coppia noi ragioniamo così cinese dice aspetta nel macrocosmo esiste l'omosessualità sì allora perché nel microcosmo no noi diciamo il nome della legge di natura la coppia omosessuale non può esistere lui dice no no proprio il nome della legge di natura l'omosessualità può esistere allora vuol dire che noi stiamo sbagliando culture cioè noi stiamo ragionando con il sistema decimale a livello matematico loro invece stanno ragionando con il sistema sessagesimale per cui per loro uno e mezzo si scrive uno virgola trenta noi per dire uno e mezza scriviamo uno virgola cinquanta perché adoperiamo due sistemi di pensiero non ci troveremo mai non so se ho reso l'idea sono difficili queste cose qua spero di no noi cristiani siamo diventati sterili perché non abbiamo semplicemente messo a dormire la ragione e il sonno della ragione genera mostri allora è giusto che noi riprendiamo proprio come popolo di Dio non come classe dirigente come popolo di Dio dobbiamo tornare a far macinare la capoccia e non dobbiamo aver paura perché i vescovi non sono migliori di noi hanno una grazia dello spirito che è più grande della nostra perché il loro carisma è quello di avere l'autorità nella chiesa ma bisogna aiutarli bisogna aiutarli perché lo spirito santo non si è imbottigliato nella testa di un vescovo lo spirito santo è donato a tutti amen amen sono le undici noi chiudiamo qui questa nostra conversazione aspettiamo due tre minuti e poi cominciamo a cincischiare qualche cosa di greco lennistico a cincischiare